Buongiorno, ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa del mattino sul canale 17, ci ritroviamo ormai da tanti anni, 12 per l'esattezza, ogni mattina per stare un po' insieme e sfogliare i giornali che troverete in edicola e uscire dunque di casa informati. E allora partiamo dal Santo del giorno, partiamo dal Santo e facciamo gli auguri a tutti quelli che portano il nome di Giovanni, perché oggi la Chiesa ricorda un gesuita, San Giovanni, il sole è sorto alle 6.18, tramonterà le 18.15 minuti. Andiamo adesso invece a vedere il tempo che farà per i prossimi giorni, lo facciamo con il bollettino della protezione civile delle Marche, che per la giornata di oggi, venerdì 16 marzo, prevede precipitazioni inizialmente sparse anche a carattere di rovescio, però in esaurimento nel corso delle prime ore della giornata, quindi dovrebbe essere già passato, stiamo parlando delle primissime ore della mattinata, infatti questa mattina è piovuto, almeno qui nella zona di Fano. Poi dal pomeriggio invece, quindi avremo una pausa adesso nel corso della mattinata, poi dal pomeriggio ancora precipitazioni sparse a carattere di rovescio, più insistenti però ed intense nel settore centro-meridionale della regione Marche. Il limite delle nevicate è intorno ai 1.800 metri. Per la giornata di sabato, domani, avremo ancora pioggia, pioggia a carattere di rovescio temporale al mattino e fenomeni sparsi invece nel pomeriggio, 1.300 metri il limite delle nevicate. Per domenica, domenica migliora diciamo nella seconda parte, nella mattinata di domenica sulla costa, ma poi nel pomeriggio avremo ancora carattere di rovescio delle precipitazioni o temporali, mentre pioverà continuamente nella parte invece montana. L'inizio della settimana sarà con possibile tempo instabile, arriverà il freddo, niente Burian per carità di Dio, ci mancherebbe altro, però insomma arriverà il freddo e le temperature scenderanno. Per la settimana di Pasqua ancora è presto per dirlo, molti lo chiedono, però è presto per dirlo, ma potrebbe, la tendenza è quella che potrebbe esserci un miglioramento. Tanta gente ci segue anche su Facebook questa mattina, quindi li salutiamo tutti, anche su YouTube, sono i due canali dove potete seguire in diretta la rassegna stampa, i programmi qui come il telegiornale di Fanotv e occhio alla notizia invece dove troverete un demand poi quando volete in ogni momento sia la rassegna che il telegiornale. Andiamo adesso invece a vedere i quotidiani, cominciamo dal Corriere Adriatico, in primo piano la riqualificazione del San Domenico dove gli ambulanti andranno via per due anni perché verrà appunto riqualificata tutta questa piazza dove c'è il mercato delle erbe, trasferiti, verranno trasferiti nella piazzetta di via Bruno comune e operatori parlano di un progetto che sarà comunque bellissimo, quindi verrà la pena inattendere. La bomba in mare invece a Fano scoppierà lunedì 19, l'annuncio lo ha dato il sindaco di Fano Massimo Seri allo scadere delle 144 ore, la marina militare interverrà subito. Poi in primo piano sempre sul Corriere Adriatico si parla dell'inchiesta che ha coinvolto il guru pianesi e gli strani ordini di non fare sesso e poi ancora le marche chiedono a Roma più autonomia per quanto riguarda le banche, la banca e poi sotto chiuso nel condotto dell'aria per sfuggire all'arresto, visto si è scoperto un ladro di vestiti, si nasconde, questo è successo a Pesero, in un intercapedine del centro commerciale. Tutte notizie che adesso vedremo all'interno del quotidiano. L'annuncio del sindaco, l'esplosione sarà lunedì, questa è la pagina di Fano del Corriere, gli artificieri interverranno subito allo scadere delle 144 ore dall'innesco chimico. Dunque lunedì prossimo i palombari artificieri della Marina Militare faranno brillare la bomba d'aereo che è stata ritrovata a martedì scorso sulla spiaggia di Sassonia nel cantiere del nuovo scolmatore a Fano, se non sarà esplosa prima per l'armamento ritardato. Quindi o esplode da sola o verrà fatta brillare, in un modo o nell'altro la bomba non dovrà essere più una minaccia. C'è navigazione vietata nel raggio di due miglia dal punto in cui appunto la bomba è stata affondata e si parla anche però di questa voce che è girata per un po' e che ha rilanciato Adaro Miccioli dei 5 Stelle sul ritrovamento. Quando è stata ritrovata questa bomba? La bomba è stata ritrovata lunedì, insomma l'hanno bollata tutti come bufala colossale però c'è adesso chi anche vorrebbe querelare i 5 Stelle per questa uscita. Insomma tutti dicono è una balla colossale però si tratta di fake news, una notizia falsa. Però quando il sindaco Massimo Seri prende la parola in consiglio comunale appunto pungolato dal capogruppo dei 5 Stelle Miccioli non usa giri di parole per catalogare l'ipotesi che il ritrovamento della bomba non sia avvenuto martedì mattina ma addirittura il giorno prima. Insomma se fosse così veramente sarebbe molto grave ma difficile poter dire se crediamo ovviamente a tutto quello che poi è successo ovvero che sia stata ritrovata martedì. Aeroporto al punto di partenza invece l'accusa di Severi alla commissione comunale non è stata fatta chiarezza su niente nella relazione di Mirisola solo i verbali delle audizioni chiesti ulteriori accertamenti. Ragazza importunata a Pesaro costretta alla fuga dove è successo? È successo in Piazzale Matteotti qui. Piazzale Matteotti non è più dei pesaresi dicono nei giorni scorsi un uomo era salito sul cavallo del Tancredi portato via dalla finanza dopo tre ore però era di nuovo lì e purtroppo quello che è successo così dicono gli esercenti e i residenti che quello che lì è una terra di nessuno serve una pattuglia fissa così come è successo nel parcheggio alla Carducci per in qualche modo lottare contro i parcheggiatori abusivi insomma questa è la situazione che è un po' quella che c'è ovunque ma insomma i detriti e i tronchi il foglia va liberato segnalazioni di criticità del genio civile gli uomini del comune tolgono il tappo e questa è la fotografia dell'intervento in corso ieri mattina lungo gli argini del fiume Foglia un tratto terminale che attraversa anche la città di Pesero e poi c'è un'applicazione invece che è stata realizzata dall'università di Urbino che mette che è stata appunto messa appunto da questi ricercatori che serve per verificare cioè rileva automaticamente la qualità del manto stradale su cui si sta viaggiando i dati chiaramente vengono raccolti in modo anonimo dal cellulare e inviati ad un server che li elabora e quindi cerca di far capire che dove sono le strade che hanno problemi e dove invece ci sono strade senza intoppi. Valentino Rossi lo abbiamo detto anche ieri sera nel telegiornale e sarà in pista anche quest'anno e ci sarà fino al 2020 guidare la M1 mi fa stare bene ha detto Valentino Rossi accordo ufficiale tra il dottore e la Yamaha contratto biennale per non avere rimpianti. Si recupera il San Domenico questa è la fotografia interna dicevamo gli ambulanti verranno trasferiti nella piazzetta di via Bruno il percorso della riqualificazione è stato già tracciato c'è stato un incontro tra il comune e le associazioni di categoria tutti sono soddisfatti il palazzo diventerà bellissimo. Da Urbino il Partito Democratico ritrovi la sua natura sociale parliamo di politica il segretario Santi risponde alle critiche del dopo voto abbiamo tenuto rispetto al trend nazionale la strategia DEM cercare di trattenere una quota di studenti favorendo l'occupazione di alto livello. La pagina della Valle del Cesano ancora si occupa di Frane siamo a Pergola Frane residenti tagliati fuori a Monterolo si usano due auto per andare al lavoro percorrendo a piedi il tratto di strada interrotto un incontro un summit con provincia regione convocato dal sindaco Baldelli per chiedere fondi e lavori urgenti. Questa è la fotografia della situazione della strada a Monterolo che interrotta mentre sopra quella dei barbanti divorata dallo smottamento. E ancora dalla pagina di Cattolica Gabice Guerra alle Trivelle Valconca alleata piattaforme Morciano e Corriano sostengono l'amministrazione Gerrari in un ricorso al TAR sempre più trasversale. Un'auto su dieci e torniamo sulla cronaca di Pesero sfugge alla revisione non è solo per il rinnovo del parco mezzi. Anche il segretario CNA Autoriparatori conferma la flessione. La spesa è di 70 euro ma c'è chi teme di dover mettere mano a costose riparazioni per essere in regola e dunque cosa fa? Si sottrae a questa revisione e fa di tutto per non essere poi pizzicato da tutte queste telecamere che comunque ormai sono piazzate dappertutto e rilievano anche e soprattutto se c'è la revisione in regola oppure no. I rossini di carta pesta si moltiplicano. Piace ai carristi fanesi l'idea del silico di Pesero Ricci di queste teste con i colori delle contrade del palio dei bracieri. Il presidente ACF dice devono diventare un simbolo che vada oltre il periodo delle celebrazioni. Praticamente Ricci ha proposto ai carristi di fare dei testoni di vetro resina con dei colori diversi per ogni quartiere che partecipa al palio dei bracieri quella che c'è d'estate. Ebbene piace l'idea naturalmente ai carristi fanesi probabilmente insomma si farà anche se questa è una cosa mia personale e lo dico anche su quando le mettono a fano durante il periodo di carnevale a me questi testoni in giro fanno rabbrividire ma comunque queste sono cose brutte ma comunque poi ognuno fa quello che vuole. Ladro per sfuggire alla cattura si chiude nel condotto dell'aria è successo all'iper Rossini di Pesero l'uomo è rimasto nascosto in una intercapedine appunto dell'iper e tutto è stato immortalato anche dalle camere e dalle telecamere di videosorveglianza all'interno dell'ipermercato. A Fossombrono invece per la biblioteca Passionei l'amministrazione recupera altri due locali l'assessore Mei spiega le fasi dell'intervento e le mosse future. Adesso invece andiamo a vedere il resto del Carlino ma vi invito a rimanere con noi anche quelli che guardano su Facebook perché vi devo far vedere un video alla fine di questa nostra segna stampa un video che sta girando è diventato virale sui social network ed è un video che è stato trasmesso da Sky 1 in una trasmissione di Cattelan che è interessante con il virologo Burioni ma lo vedremo alla fine alla fine della segna stampa. Intanto andiamo a vedere il resto del Carlino. In primo piano c'è la chiusura delle indagini sull'omeopata Mecozzi. La procura chiude infatti le indagini sul bimbo morto per otite il bimbo di Cagli il nonno contro il medico omeopata ma rischiano il giudizio anche i genitori. Mecozzi deve pagare questo è il titolo sulla fotonotizia. Lavorava invece per quanto riguarda la per quanto riguarda il come si chiama mo ve lo dirò però insomma come no dimmelo Riccardo sul microfono Pianesi la storia del macrobiotico. Oh ecco è la parola macrobiotico che neanche prima mi era venuto ok c'è l'omeopatia in testa e non il macrobiotico grazie. Lavoravamo 12 ore al giorno e pagavamo per poterlo fare il professore Fanese per 12 anni con la psicosetta da Delfino a Rietto ero arrivato racconta lui a 62 kg per un metro e novanta d'altezza mandato a Reggio per impunizione Pianesi il capo dialogava con i medici ma rifiutava le cure e c'è il racconto dentro a pagina 2 anche in nazionale di questo professore Fanese che per 12 anni ha fatto parte di questa psicosetta poi Rossi che firma fino al 2020 la sua leggenda andrà oltre i 40 anni sotto l'aset per quanto riguarda la bomba vuole adesso la bonifica della Sassonia della spiaggia di Sassonia per poter lavorare la pagina di Urbino la fusione può essere fatta in sei mesi se si procede insieme e soprattutto dialogando c'è l'ipotesi di fondere la città di Urbino con Petriano e Monte Calvo in foglia Lino Michelli dice guardiamo ai comuni del nord con più abitanti dopo il fallimento con Tavoleto l'operazione deve avere il fine di convincere ma non di costringere la popolazione a fondersi Petriano però dice no ma il sindaco Fabrizioli infatti è contrario prima vanno risolte un po' di cose come per esempio Urbino 2 qui sulla pagina invece 8 del Carlino di Pesaro potrete leggere questa mattina la dichiarazione dei redditi dei dottori, dei medici, dei professori la classifica degli stipendi dei dirigenti di area vasta 1 retribuzioni verso la meritocrazia e finora hanno ricevuto una busta paga abbastanza garantista per il ruolo ricoperto anche se ferma i valori del 2011 formate in massima parte da voci stipendiali fisse e poco legate ai risultati stiamo parlando dei dirigenti medici, tecnici e amministrativi dell'area vasta 1 e il top è Carlo Alberto Generali direttore della cardiologia di Urbino con un imponibile lordo di 222 mila euro lordi e poi via via tutti gli altri che troverete sul giornale di questa mattina la pagina invece di Pergola William Breveglieri un uomo di peso a lui il premio di Pergolese dell'anno il fondatore della ETS un'azienda leader nel sollevamento il fondatore è qui e questo è uno dei macchinari un bilancino per acciaieria realizzato appunto da questa azienda di Pergola da Fano invece la bomba esploderà in mare lunedì ma ora il cantiere deve essere sicuro ASET vuole che la bonifica elimini ogni residuo pericolo in Sassonia Paolo Reginelli il presidente dice normalmente si usano i carotaggi ma la ghiaia ci ha imposto il metal detector da pian del bruscolo invece la immagine sulle uova di Pasqua della Lega del Firo d'Oro che quest'anno ha deciso di mettere il volto di Sofia Sofia la sorpresa più dolce il volto sulle uova di Pasqua della Lega del Firo d'Oro Montecchio la bimba cerebrolesa esempio per tutti è una bambina di sei anni e adesso l'ultima pagina torniamo al Corriere Adriatico vi dicevo di questo video che è diventato virale che adesso fra un istante vi faremo vedere Querelo Burioni e lui va da Cattelan contro il virologo si è scagliato il presidente dei biologi e lui dice sono tranquillo e che cosa è successo? è successo appunto che è andato in televisione Burioni da Cattelan su Sky e ha realizzato un breve video che sta avendo un successo strepitoso questo video è contro i laureati di Facebook ovvero sia che cosa? cioè contro tutti quelli che pensano di poter dire qualunque cosa di aver titolo per dire qualunque cosa quando in realtà spesso e volentieri sono degli emeriti ignoranti e allora vi facciamo vedere questo filmato e su questo io vi saluto Burioni lo vedete qui tra poco arriverà anche Cattelan un video molto carino dura 30 secondi su questo ci salutiamo ci diamo appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale intanto il 338 49 68 250 addirittura con un bel fondino blu serve per le vostre segnalazioni e allora mandiamo in play il video buona giornata a tutti salve sono Roberto Burioni per diventare medico ho dovuto studiare più di 30 anni passando notti insonne sui libri e facendo tantissimi sacrifici per questo oggi sono qui a dirvi non fate come me ciao sono Alessandro Cattelan ho 37 anni e non ho mai fatto un lavoro vero nella mia vita e me la passo alla grande non sprecate tempo e denaro con quella cosa chiamata istruzione da oggi potete anche voi laurearvi con poche semplici mosse comodamente da casa vostra con la laurea su Facebook grazie al nostro avveneristico metodo un like vale come un esame con soli 20 like puoi laurearti in ingegneria civile medicina, economia, astrofisica e molte altre discipline a tua scelta laureati anche tu condividendo i post sensazionalistici degli amici che la pensano esattamente come te e ricorda non serve leggere tutto l'articolo basta solo il titolo o al limite le parole in grassetto tieni anche tu lezioni di vita agli altri su argomenti di cui non sai assolutamente nulla laurea su Facebook I like it come è diventato così importante il suo pensiero MIGA 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 Autore dei sovrapposti